Ciao a tutti, vi presento i miei cavaglie. Iniziamo con la presentazione. Ed ecco i gioennonetti di casa. Dilli ha 13 anni e viene dalla Germania. Lady ha 12 anni e viene dalla Repubblica Ceca. Continuiamo con due femminucce. Belle ha 8 anni e tra qualche mese ne compierà 9 e viene dalla Francia. India ha 7 anni e a dicembre ne compierà 8 ed è nata a casa nostra. Ora presentiamo due femminucce. Zara, nata in Polonia, 6 anni. Leila, 6 anni, nata a casa nostra. Qui abbiamo due cagnoline nate a casa nostra, entrambe di 2 anni. Gaia e Rei. L'ultimo arrivato è un maschietto. Si chiama Darsi, ha un anno e viene dalla Slovacchia. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video.